Il primo campione è Salvo Mazzone! Salvo Mazzone, 47 anni di Biancavilla, che vive in giro per la Sicilia per esigenze lavorative, ha conquistato il primo posto nella categoria trucco glamour nel concorso mondiale 2023 che si è svolto a Peistum, in provincia di Salerno, domenica scorsa. Mazzone, primo classificato, si occupa di make-up artist sin dall'età di 17 anni, dopo la laurea presso l'Accademia delle Belle Arti, presa con 110 lode e diversi corsi di make-up e master con i più grandi truccatori italiani, da Diego Dallapalma a Pablo e Tolomei, si è formato e affermato nel campo, diventando un vero professionista. Attualmente lavora nel settore con una grande azienda, a Modica, in provincia di Ragusa, ma è sempre impegnato in lunghe trasferte in tutta la Sicilia e si dice felice per il risultato ottenuto, frutto di tanto sacrificio. Sono veramente felicissimo di aver vinto questo premio, non ci credevo da diversi anni perché lavoro sempre nel settore della profumeria, del make-up, ma non mi mettevo appunto da dieci anni in gareggiata facendo questi concorsi. Quindi dedico questa vittoria a me stesso, a tutta la mia famiglia, a tutti i miei colleghi, amici e cosa dirvi, ho ancora tanto da regalarvi a tutti voi. Grazie, grazie, grazie. Con la conquista del podio più alto, Salvo Mazzone fa echeggiare in alto e in positivo anche il nome della città di Biancavilla.